Scusi che sono te che ho detto no, sono te peluche Cerchiamo di unire, oltre alle nostre canzoni durante il concerto, il messaggio in maniera comunque ironica, in una chiave ironica Sì, secondo me arriva efficace, comunque la musica è un messaggio universale e di conseguenza arriva per tutti, in qualunque lingua, perché è emozione La ricerca nazionale scienziaria l'ha definito l'uomo dalla tempesta ormonale perfetta, cioè lui se guarda una ragazza a due minuti la mette incinta Attraverso la musica possiamo abbattere tante barriere culturali soprattutto, perché quelle architettoniche si possono abbattere Ma se abbiamo le barriere culturali in testa è un po' di strada Grazie ancora, buona serata e buona vita dai lati di Catozzelli, ciao! Un bacio e un abbraccio per Viugi e per tutti Un bacio e un abbraccio per Viugi e per tutti